Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Scandici e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Spostandoci sulla 12, code a tratti per lavori tra Pisa Centro e la diramazione per Livorno in direzione Rosignano. In Fipili in direzione Firenze, un chilometro di coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est. Si segnalano anche code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Si ricorda che la statale 223 di Paganico è chiusa per circa un chilometro e mezzo in direzione Grosseto nei pressi di Campagnatico a causa di uno smottamento. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!